Ciao a tutti, io sono Lorenzo, sono un ragazzo di Firenze e non ho una vera e propria professione ma lavoro nell'ambito del volontariato, dello sport paralimpico e del turismo accessibile. Poi mi occupo molto anche del settore degli ausili perché sono costretto ad usare un ausilio nella quotidianità, ma in questo caso una sedia a rotelle, ma magari ve lo racconto meglio dopo. Lavoro in un posto meraviglioso qui in Toscana che si chiama Dynamo Camp, è un posto che lavora con bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, dove presso Dynamo Camp tornano a fare esperienze in cui si risentano bambini e basta, senza pensare ad altro, alla malattia. 15 anni fa, in seguito a un grave incidente stradale, la mia condizione di vita è cambiata totalmente e ho dovuto affrontare un periodo molto lungo in unità spinale, dove in un arco molto lungo di tempo, perché ci sono stato un anno, ho reimparato a vivere in una condizione totalmente nuova per me, cioè da paralizzato, perché purtroppo nell'incidente stradale io ho riportato una lesione a midollo spinale molto alta, ad altezza praticamente delle ascelle, per cui da quel momento di 15 anni fa il mio corpo è rimasto paralizzato e io ho dovuto reimparare a gestire tutta la mia vita soltanto con gli arti superiori. Una caratteristica molto importante di questa patologia, che nel mio caso è la paraplegia, è che ho avuto la grandissima fortuna di rimanere autonomo nella parte superiore del busto e quindi delle braccia, per cui sono tornato quasi subito ad affrontare una vita indipendentemente, sono tornato a casa mia e ho ripreso con le mie abitudini. Lo sport in questo mi ha servito tantissimo, perché fin da subito ho ripreso, ho cercato di tornare alla vita e alla quotidianità di tutti i giorni, però ecco ho ripreso a fare sport e questo mi ha portato sicuramente ad aumentare la mia autostima e a riappropriarmi dei miei spazi prima di tutto, perché per me l'acqua era un qualcosa di fondamentale. Io avevo sempre fatto nuoto anche prima dell'incidente, ho avuto 19 anni e che mi ha fatto finire in questa condizione, ho sempre fatto nuoto anche prima e quindi il primo sport per me è stato riapprocciarmi al nuoto, con molta felicità poi, perché poco dopo che io mi sono riappropriato appunto dei miei spazi, dell'acqua, di quell'ambiente di cui avevo un bisogno proprio incredibile, ho scoperto di quanto quell'ambiente facesse bene alla mia condizione, perché in una condizione comunque pesante, in questa condizione pesante, paralizzati per gran parte del corpo, l'ambiente acquatico si è rilevato fondamentale, perché l'assenza di gravità mi ha riportato subito proprio a stare meglio. Poi ho scoperto che nell'ambito del nuoto c'erano anche le gare e i campionati italiani, i campionati europei, i mondiali, anche nell'ambito della disabilità e quindi piano piano ho riscoperto anche il mondo dell'agonismo, ho rincominciato ad allenarmi un po', mi sono rimesso quasi a dieta, buone abitudini e ho deciso di mettermi alla prova, perché non avrei mai pensato di qualificarmi in una gara nazionale in Italia gli assoluti, io lo sentivo dire prima di fare l'incidente, fra amici, pochissimi amici che riuscivano a qualificarsi per gare importanti, gli italiani di nuoto. Quando sono rimasto a un carrozzino mi sono reso conto che per poco, impegnandomi un po' e mettendomi in gioco in questo sport, sarei potuto tornare a fare le gare e addirittura mi sarei qualificato per una gara nazionale, come nido col culo, allucinazione immensa, una roba bellissima questo vabbè si taglia. Una notizia sensazionale e da lì il percorso è stato molto breve, perché dopo qualche mese di allenamento sono riuscito a qualificarmi in una gara, una soltanto, 50 metri d'orso e ho iniziato a partecipare a questi campionati bellissimi, dove ho conosciuto un sacco di gente interessante, persone con varie disabilità, ovviamente non tutti avevano una disabilità simile alla mia, molti altri, ora non entriamo tanto nello specifico, non c'erano soltanto disabilità come la mia, ma ovviamente per poter dare la possibilità a tutti di nuotare in un ambito paralimpico, ci sono delle suddivisioni delle gare in delle categorie, per cui 10 categorie dove la più alta è quella più vicina al normo dotato, la più bassa è dove ci sono più limitazioni, tante limitazioni. Ho fatto una classificazione funzionale con un medico classificatore che mi ha classificato S4. Una volta io ho ricevuto la mia classificazione funzionale nel nuoto, ho iniziato a fare le gare per quella categoria, quindi con tutte persone che avevano anche disabilità diverse dalla mia, ma che si trovavano a fare le gare insieme a me, di modo che tutti avessero più o meno le stesse possibilità. È stato veramente bello poter entrare in questo mondo dell'agonismo perché mi ha portato prima di tutto a conoscere tante persone di tutta Italia, siamo da tutte le regioni, ci si conosce, si diventa amici e siamo anche competitor, quindi poi ci si trova in gara, in acqua e ci si scontra. Però non mi vorrei dilungare tantissimo nell'approfondimento di questo bel mondo del nuoto che mi ha accompagnato fin da quando sono piccolo, anche perché io ho una fragilità congenita, ereditata dalla mia mamma e dalla mia nonna, per cui presento una fragilità ossea molto importante, molto grave. Mi sono iniziato a rompere fin da piccolissimo, avevo un anno e mezzo quando mi sono rotto il primo femore e da un anno e mezzo fino ai 18 anni ho collezionato 10-12 fratture per cose abbastanza semplici. Per questo il nuoto è sempre stato il mio sport, è sempre stato lo sport e mi ha accompagnato fin da piccolo perché dovevo evitare di farmi male, quindi no calcio, no rugby, no cose strane, però mi è sempre stato per me. Sarà che io sono nato al mare quasi e il vivere il mondo dell'acqua mi appartiene, probabilmente anche per questo il mio destino poi mi ha portato invece dopo l'incidente stradale all'età di 23 ai 24 anni a conoscere un altro mondo bellissimo e meraviglioso e poi mi ha veramente trascinato e ingoiato, che è il mondo del surf. Tutto questo devo dire che è iniziato per me in ospedale. La prima volta nel 2005 quando ho conosciuto Massimiliano, un altro ragazzo qui della Toscana, che lui aveva avuto la mia stessa sorte ma in altre condizioni. Per cui noi comunque ci siamo ritrovati in unità spinale, ci siamo conosciuti su un letto di ospedale. Ci siamo persi di vista per i primi anni perché comunque il dover affrontare una nuova condizione, come rimanere in sedia a rotelle, è un percorso su cui non è che ci si fa tante risate. Il primo periodo soprattutto è difficile per tutti e probabilmente a me ha aiutato molto il fatto che ho mantenuto il lavoro che stavo facendo, quindi sono tornato subito alle responsabilità del lavoro. Ho ripreso la macchina e quindi ho ripreso ancora più autonomia, nell'indipendenza. Sono tornato a vivere per conto mio e quindi questo probabilmente mi ha dato una bella spinta all'inizio per incominciare in questa nuova condizione. Come è successo nel nuoto è stato graduale, è arrivato forse quando era il momento giusto. Mentre per quanto riguarda il surf è stato bello perché è avvenuto sì da un incontro con un altro ragazzo toscano che ho conosciuto in unità spinale, ma non è venuto fuori subito, è venuto fuori dopo un po' di anni quando ci siamo risentiti e lui mi ha invitato ad unirmi a lui nella ricerca di vari spunti per adattare delle tavole da surf alla nostra condizione, qualcosa che non riuscivamo a trovare né su YouTube né da nessuna parte né tramite le scuole di surf già esistenti in Italia. Per cui all'inizio è stata proprio una ricerca sfrenata fino a trovare degli artigiani che ci hanno aiutato a portare avanti un po' questo progetto. Poi Massimiliano ha deciso di aprire un'associazione, mi ha coinvolto come atleta in questa e da quel momento è iniziata un po' la crescita perché dal fare le tavole e andare noi a cercare le onde abbiamo iniziato a coinvolgere altre persone, quindi a voler cercare di seminare il più possibile proprio sul tema del surf, nel nostro caso dell'adaptive surf che è un qualcosa che in Italia non esisteva prima che Massimiliano e poi io ci mettessimo a scavare un po' in questo bellissimo settore dello sport. Che posso dire? Io non ero un surfista prima dell'incidente stradale e lo sono diventato poi, quindi per me è stata ancora di più una scoperta. La sensazione non si descrive, va approvata, quindi vi invito tutti a provare per una volta almeno a mettersi su una tavola e a lasciarsi spingere da un'onda in qualsiasi posizione. Andando un po' nello specifico, noi che presentiamo una disabilità motoria nella parte superiore del corpo, stiamo in una posizione distesa a pancia sotto, però le categorie del surf sono più ampie, sono sei. C'è la categoria dei visual, dove ci sono anche non vedenti. Le caratteristiche di questa categoria, nello specifico, presentano il fatto che c'è anche un accompagnatore, quindi è una coppia di persone che escano con la tavola e si possono dare soltanto comandi vocali. Quindi l'accompagnatore non può né toccare, né spingere, né direzionare la persona non vedente, ma la può solo dirigere con la voce. Poi ci sono piccole accortezze per quanto riguarda le protezioni, perché nel caso dei non vedenti la tavola ti può benissimo venire addosso e quindi credo che ci sia il caschetto. E per quanto riguarda le fasi di allenamento, tante volte vengono usati i rici trasmittenti o comunque gli walkie-talkie, quelli magari tramite un cellulare. Ormai la tecnologia può fare grandi cose e quindi per quella categoria l'aiuto è un po' questo. Le categorie motorie invece sono due categorie di amputati, o forse tre. Ora non vorrei sbagliare perché proprio a cavallo tra il 2019 e il 2020 c'è stata una revisione delle categorie e quindi c'è stato delle piccole modifiche, ma tutte nello specifico sul sito della ISA, che è la International Surfing Association, si trovano nella categoria proprio parasurfing, che è il nuovo termine che hanno dato. Prima il termine era adaptive, ora da quest'anno si è trasformato in parasurfing. Si trovano tutte le categorie, suddivise, descritte, molto meglio che di me. Però in generale per la parte motoria c'è una categoria di amputazione più bassa e una categoria di amputazione più alta. Poi, sempre all'interno di queste due categorie c'è la possibilità di surfare in piedi con le protesi oppure senza protesi in posizione più comoda, quindi o seduta o rannicchiata o in ginocchio. Per quanto riguarda le categorie da distesi, quindi come dicevo in posizione prono, le categorie sono due, sono da soli o assistiti. Da soli l'atleta entra in acqua accompagnato dai volontari e poi per i 20 minuti della HIIT è in acqua da solo, quindi deve andare fuori, deve scegliersi le onde, deve remare, dare la remata giusta per prendere l'onda migliore e finito il tempo, tornando a riva, i volontari lo aiutano ad uscire. Per quanto riguarda l'assist, il team in acqua durante la gara è composto da tre persone, dove c'è l'atleta che però non può remare in acqua e poi ci sono gli assistenti che sono, io li chiamo lo spingitore e il prenditore, perché in inglese si tramutano in pusher e catcher. Però quando siamo fra amici e sei lì a fare, sai ero col mio pusher, non suona tanto bene e quindi ho coniato questo termine come lo spingitore, che è molto simpatico ma è il partner che sta in acqua e ti aiuta a prendere le onde dando una bella spinta e impedendo di fare la remata per chi magari può avere un problema agli arti superiori o di qualche altro genere. Tra le varie categorie posso dire che le disabilità sono veramente tante e si mescolano, soprattutto per quanto riguarda le disabilità motorie, anche qui dopo aver fatto una visita con un medico classificatore che dopo alcune prove da seduto, da disteso, prove di forza e quant'altro, ti determina in quale categoria appartieni. Ora, veniamo a noi con le cose belle perché prima dicevamo, o meglio, vi stavo raccontando del fatto che con l'associazione abbiamo cercato fin da subito di portare persone nuove a provare questa disciplina, organizzando dei surf camp in Portogallo e in Spagna. In realtà le avventure sono partite dalle Canarie, dalle isole Canarie, quando con Massimiliano nel 2012 abbiamo fatto il primo viaggio, la prima avventura alla ricerca dell'accessibilità, che per noi è fondamentale per raggiungere una spiaggia, di un luogo dove dormire fosse accessibile e di un team di persone che ci potesse aiutare ad intraprendere questo sport, questa disciplina. In questo caso in senso ludico perché noi andavamo a fare una vacanza dove poi cercavamo anche di fare surf, la nostra passione. Non vi posso nascondere che è stato difficile. L'accessibilità ora è sempre meglio, diciamo che negli ultimi anni un po' si sta sensibilizzando il sistema, la società, anche riguardo chi ha delle disabilità motorie magari per fare delle scale ha bisogno di una rampa o di un ascensore, quindi comunque un'alternativa. Quando però si parla di spiagge e di scogliere bisogna molto andare all'arrembaggio, è quello che abbiamo cercato di fare noi fin dall'inizio e quindi con amici, compagni, fratelli siamo andati alla Vascoperta, alle Canarie, a cercare un posto dove poter surfare. La prima avventura è stata bellissima, la seconda ancora di più. La terza volta abbiamo deciso di coinvolgere altre persone dalla Toscana con altre disabilità, disabilità diverse che non avessero per forza una condizione identica alla nostra e quindi grazie a amici, associazioni, abbiamo deciso di partire all'avventura sempre delle isole Canarie per fare il primo surf camp dove persone con disabilità diverse si mettevano in gioco in una disciplina nuova perché per l'80% di quelle persone che sono venute con noi era la primissima volta che si mettevano una muta, che vedevano una tavola e che entravano nell'oceano. Quindi è stato bellissimo, bellissimo per me il poter condividere una cosa che ho scoperto essere così bella e secondo il poter dar una carica al movimento che spero cresca sempre il più possibile e sempre più persone con disabilità possano arrivare a provare una volta sola questo sport. Dopo il viaggio alle Canarie abbiamo deciso di cercare una realtà a livello agonistico che ci potesse dare a noi la possibilità di crescere anche come atleti e l'abbiamo trovata in Portogallo, in un luogo dove abbiamo trovato questo centro di avanzamento sportivo molto bello, innanzitutto accessibile, dove avevano i tiralò, una versione straniera della nostra job che per chi non lo sapesse è la sedia da mare per entrare in acqua in Italia, qui più comune vi sfido ad indovinare l'acronimo di job visto che nessuno l'ha indovinato, job l'hanno inventata i napoletani, geniali, fantastici sarebbe l'acronimo di jam o bagno, jam o bagno e è la sedia per i disabili per entrare in acqua a fare il bagno al mare in Portogallo questa sedia si chiama tiralò, 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 oh tiralò, oh tiralò, tiralò, molto simpatica è una sedia con un traino frontale per cui grazie ad altre persone noi riusciamo ad arrivare molto molto facilmente in acqua e in Portogallo abbiamo trovato questo team avanzato che ci ha dato la possibilità di trovare l'accessibilità e un ottimo mare dove prendere delle bellissime onde da lì abbiamo un po' incrementato i nostri viaggi, abbiamo cominciato a viaggiare per allenarci un paio di volte l'anno alla ricerca delle onde, la notizia più bella è arrivata nel 2017 dopo che il CIP, che è il Comitato Italiano Paralimpico in Italia è diventato un ente pubblico al pari del CONI prima era una branchia del CONI che aveva modo di agire, di fare tante cose, di promuovere tante cose ma aveva sotto di sé tante altre federazioni, quelle paralimpiche diventando a livello del CONI un ente pubblico il Comitato Italiano Paralimpico ha avuto modo di promuovere molto di più gli sport arrivando così anche al settore del surf la federazione che aveva acquisito il surf in Italia la FISV, Federazione Italiana Scinnautico e Wakeboard ha acquisito nel 2017 anche il settore paralimpico coinvolgendoci e portandoci all'evento più importante a livello mondiale che sono gli ISA World Adaptive Surfing Championship un evento meraviglioso dove la prima volta innanzitutto non posso nascondere l'enorme piacere e anche onore di poter partecipare a una cosa così importante insieme alla federazione e quindi di far parte del team nazionale paralimpico nascente in Italia forse perché proprio nel settore della disabilità motoria soprattutto con le sedie a rotelle eravamo un po' i precursori abbiamo avuto la possibilità di andare a partecipare ai campionati mondiali riuscendo così ad andare insieme a un team di altri 4 atleti in tutto eravamo in 5 abbiamo partecipato insieme ad altri 120-130 partecipanti da tutto il mondo ai mondiali di surf paralimpico e per me non posso nascondere che è stata un'esperienza veramente bellissima è incredibile ancora c'ho i brividi quando ci penso a volte prima di tutto perché è un ambiente dove ti confronti non solo con persone che condividano la tua condizione ma che la vivano dall'altra parte del mondo in una realtà veramente diversa non solo a livello di società e umano ma anche a livello sportivo per cui il confronto secondo me è massimo è bellissimo sempre se sai l'inglese o la lingua straniera perché per me il primo anno è stato un po' un po' quasi simpatico perché io me lo mangio me lo mescolo non sono bravissimo con l'inglese vi devo dire la verità però è un po' lo mastico molto praticamente alla fiorentina mescolandolo un po' con il dialetto e quindi dal loro punto di vista è molto simpatica la chiacchierata ma la condivisione alla fine arriva perché ci sono persone veramente da tutto il mondo ho conosciuto persone del Sudafrica persone del Giappone anche persone più vicine da Spagna, Francia, Portogallo e Germania ma anche persone delle Hawaii e delle Filippine che venivano a mettersi in gioco in un contesto agonistico di alto livello perché parliamo di persone da tutto il mondo e si raccolgano per fare una competizione di alto livello dove poi nasce, sì anche lì siamo competitor siamo avversari però poi dopo le gare siamo a sorridere e magari a bere una birra insieme raccontandoci cosa sta succedendo nella nostra nazione e come sta evolvendo il movimento di questo settore che poi non è così scontato io vi posso assicurare che sono almeno 4-5 anni che faccio di tutto agli eventi con le persone che conosco però non è così scontato mettersi in gioco in uno sport dove c'è da andare a cercare un posto accessibile che più delle volte magari è anche lontano da casa per me che io abito a Firenze non è così scontato uscire dalla tavola da surf andare in acqua trovare qualcuno che mi accompagna andare a allenarmi e quindi io imposto tutto il mio allenamento nelle vacanze e decido di andare a fare dove c'è l'oceano alle Canarie a Fuerteventura in Portogallo qualche volta anche in Italia però devo dire che le volte che ci sono buone onde con un buon clima in Italia forse bisognerebbe andare in Sardegna in nord della Toscana in Liguria purtroppo qui le condizioni non sono buonissime e per noi l'occasione migliore per allenarsi è andare a cercare le onde dell'oceano e quindi nel 2017 e nel 2018 abbiamo avuto la fortuna di essere convocati dalla Nazionale per andare a fare mondiali in California alla Hoya San Diego per due anni consecutivi ed è stata veramente appagante ma emozionante come esperienza proprio perché ci ha portato personalmente mi ha portato a conoscere veramente tante tante persone l'ultima edizione quella del 2018 eravamo 140 atleti tra cui tante donne tante ragazze e io la ritengo una cosa molto importante prima di tutto perché uno dei canoni affinché lo sport diventi paralimpico e si possa andare a fare le olimpiadi è proprio la parità di genere quindi ragazze venite a surfare dai però ecco sì i brividi mi viene la sciccia di gallina la pelle d'oca tutte le volte sono nelle scuole racconto magari la mia storia arrivo a questo punto mi viene la pelle d'oca perché da quando ero piccolo per me era un sogno andare alle Hawaii a Onolulu sulla spiaggia quella di Mago Merlino però non avrei mai minimamente pensato che ci sarei arrivato con una tavola da surf nello zaino per andare a fare un campionato internazionale e questo invece è successo l'anno scorso abbiamo avuto la fortuna più che la fortuna la determinazione di voler partecipare perché non vi nascondo che è stato molto molto costoso ci ha aiutato uno sponsor che io ringrazio molto si tratta del CAF il Challenge Athletes Foundation un'organizzazione americana che aiuta gli atleti di tutto il mondo a viaggiare quindi se non lo sapevate approfittatene andate sul sito del CAF se avete una disabilità il CAF aiuta a viaggiare atleti con disabilità che vogliono viaggiare per eventi sportivi o per allenarsi per raggiungere poi traguardi sportivi e grazie a questa associazione ma anche grazie appunto alla nostra determinazione del voler partecipare a questa gara abbiamo ritagliato nove giorni e siamo riusciti a raggiungere la spiaggia di Waikiki Yonolulu Hawaii Ohau Isola bellissimo è stato un evento forse a livello di numeri non pari a quello dei mondiali perché alle Hawaii c'erano soltanto 70-80 atleti soltanto c'erano tanti atleti 80 atleti da tutto il mondo perché anche lì dall'Europa dal Giappone dagli Stati Uniti veramente tante persone tante ci conoscevamo già ci eravamo già incontrate però è stata un'occasione di scambio bellissima oltre ad essere all'Hawai in un luogo bellissimo io personalmente ho avuto la fortuna di finire in una hit con due hawaiani due hawaiani quindi c'era un italiano Lorenzo Bini e due locals due hawaiani avevo una paura che tremavo nell'acqua ma non tanto per la sfida io non sono mai stato super 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 competitivo era bellissima la situazione mi sentivo un po' in sfavore dicevo cavolo qui sono le loro onde le loro spiagge si allenano qui tutti i giorni farò una figuraccia e invece ho creduto in me stesso avevo uno spingitore hawaiano favoloso ho vinto la hit ragazzi ho vinto la hit io non ci credevo neanche peccato che non era quella dopo se no sarei arrivato in finale però ho vinto una hit con due hawaiani alle Hawaii e per me quella è stata forse il sogno che avevo fatto da bambino pensando a Mago Merlino me lo sono ritrovato più che fra le mani fra le onde perché ho avuto questa grandissima fortuna di poter surfare in un luogo meraviglioso come una Lulu e di confrontarmi con atleti che condividano le mie stesse o gran parte delle mie stesse difficoltà ma condividano anche la gioia di essere spinti da un'onda dell'oceano che è indescrivibile il mio più grande sogno davvero sarebbe quello di poter coniugare la mia più grande passione a livello sportivo che è il surf con l'altra mia più grande passione che è il mio lavoro cioè il mondo di Dynamo Camp e dare la possibilità anche alle nuove lebe ai giovani ai ragazzi che magari sono stretti a vivere una malattia o una disabilità fargli scoprire di quanto invece la spinta di un'onda ti possa regalare attimi di felicità indescrivibili non posso nascondere che una delle cose che mi ha fatto crescere di più dopo l'incidente stradale è stato avere la possibilità di andare nelle scuole grazie ad alcune associazioni a raccontare la mia esperienza all'inizio era molto difficile perché io sono una persona mi ritengo una persona molto timida e all'inizio ero molto impacciato bloccato non sapevo cosa dire però poi ho scoperto che sbloccandomi potevo andare a ruota libera e da lì è stata una meraviglia perché mi sono reso conto di quanto funzioni l'essere se stessi e quindi io iniziando a raccontare la mia esperienza ai ragazzi nelle scuole mi rendevo conto di quanto loro ascoltassero la mia storia e quindi anche solo quanto basta poco a prevenire un incidente stradale e magari finire in una condizione come la mia di quanto basta poco a mettersi in gioco nello sport di quanto basta poco nonostante tutte le difficoltà che ci sono dietro scegliere di riniziare a lavorare o di partire viaggiare per il mondo per cercare le onde dell'oceano e questo funziona con i ragazzi a me fa molto piacere che loro impari non mi voglio prendere la modestia di dire che lo imparano ma che loro ascoltino anche un altro punto di vista e io ci tengo molto a puntare il dito sul tema dell'inclusività di quanto veramente le nostre azioni quotidiane possano vuol dire tanto per altre persone che vivano la quotidianità magari con una sedia a rotelle a me tante amiche che da poco sono diventate neomamme sono venute a dirmi Lorenzo ma come fai la rozzina io con il passeggino ho visto che le biciclette se le lasciano i marciapiedi le scale aiuto ma che un casino effettivamente sì e quello che io cerco di insegnare nelle scuole o di non insegnare di raccontare ai ragazzi nelle scuole è proprio quanto basta poco a volte dare la possibilità a qualcun altro magari di passare semplicemente su un marciapiede non parcheggiandoci il motorino o non lasciando la macchina sulle strisce per andare in farmacia o a prendere un attimo un pacchetto di sigarette queste sono le piccole azioni che per chi è già è costretto a vivere magari tante difficoltà nella quotidianità poi si trova a dover aspettare dieci minuti perché magari gli hanno occupato il posto invalidi per andare a ritirare una ricetta dal dottore quelle cose fanno girare le scatole quando queste cose le apprende un giovane un bambino secondo me quel bambino può cambiare il mondo può cambiare la società può cambiare i genitori può cambiare gli amici perché l'ha capito un bambino e un bambino se lo capisce stiamo sicuri che lo porta avanti quando ho scoperto Dynamo Camp non mi sarei mai aspettato in Italia tanto più in Toscana potesse esistere una realtà così meravigliosa è un camp a San Marcello Pistoiese dove io ho deciso di fare il volontario nel 2015 una volta ci sono entrato però non l'ho più abbandonato anzi ho deciso di crescere di fare un corso di formazione dove sono diventato staff e ho iniziato a lavorare anche nella formazione dei volontari con un modulo che si chiama inclusività il passaggio successivo è stato proprio quello di lavorare a Dynamo Camp e ho fatto un'ulteriore formazione per diventare educatore di tiro con l'arco e quindi vado nelle sessioni dei ragazzi o con le famiglie a fare semplicemente l'istruttore di tiro con l'arco questo mondo però mi ha insegnato veramente tante tante cose una delle ultime che però metterei al primo posto è proprio la riconoscenza io ho avuto una sorpresa da Dynamo Camp e per me è stata impagabile per l'open day durante l'open day mi hanno fatto una sorpresa regalandomi la tavola da surf di Leonardo Fioravanti campione italiano nel mondo portavoce di questa disciplina c'era un motto enorme dietro di me insieme a tutti gli staff su quel palco io mi sono emozionato subito da morire e nel motto c'era scritto una roba tipo you get what you give nell'ultimo anno ho avuto anche la fortuna di essere stato invitato da un ospedale della Sicilia che mi ha rimborsato il viaggio e l'albergo solo per andare là all'ospedale da loro a raccontare ai loro pazienti la nostra avventura del surf portando una tavola facendogliela vedere in piscina ecco questo vuol dire che l'interesse sta nascendo e io invece vorrei portarlo l'interesse di tutto questo nostro grande mondo dell'adaptive in tutte le scuole di surf e sup d'Italia non so come ma in qualche modo ci proveremo con l'associazione con gli amici spero anche con la federazione che sempre di più ci sta aiutando a far crescere questo gruppo e questo movimento in Italia e quindi che dire se non venite a provare surf ovviamente per tutti coloro che volessero avvicinarsi approvare questa disciplina nel mondo della disabilità qui in Toscana nello specifico a Tirrenia presso il bagno degli americani ci sarà quest'estate il gazebo dell'associazione Happy Wheels con il progetto Surf for All che grazie a Massimiliano Matteo Mario e anche Chantal e me che facciamo parte degli atleti e del gruppo comunque dell'associazione potete venire a provare questa disciplina onde permettendo e distanze permettendo quest'anno che abbiamo dovuto affrontare questa strana situazione però vi invito con tutto il cuore a provare 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 un aspetto molto importante di questa disciplina che non riguarda la parte agonistica ma bensì solo quella ludica è proprio l'aver provato ad adattare anche delle tavole da sup quindi stand up paddleboard grazie a Tommaso ed Arianna della Toscana Sup e a Simone Mazzanti che ha brevettato un seggiolino che si chiama seat pad e dà la possibilità a chi come me non ha stabilità del tronco e neanche del busto quindi con tutte le dovute precauzioni però un cuscino è un seggiolino che dà la possibilità di poter pagaiare anche su una tavola da sup e quindi avere la stabilità insieme a loro e insieme anche all'associazione con il progetto sempre self for all un paio di anni fa siamo riusciti anche a fare un'esperienza sul fiume Arno sotto Ponte Vecchio i turisti ci guardavano sbigottiti passare su queste tavole da sup in piedi e seduti un'altra grande possibilità è proprio questa quella di poter stare seduti su una tavola e magari perché no raggiungere Buca delle Fate Sonnino Castel Sonnino per gli amanti Livornesi no vabbè per dare anche la possibilità grazie a una tavola da surf di raggiungere spiagge ormai inaccessibili dove ci si arriva soltanto tramite un sentiero scosceso o roccioso capraia tutte quelle isole inaccessibili potrebbero diventare accessibili magari grazie a una tavola da surf adattata in cui una persona con disabilità può andare remando oppure una tavola da surf con un seggiolino che può dare la possibilità tramite una pagaia o un remo doppio di raggiungere anche spiagge inaccessibili e noi ci vediamo nella prossima Pausa Caffè Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti